Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui e benvenuti alla conferenza stampa di Massimo Brambile e Alessandro Sersanti. Vi chiedo, come per tutte le conferenze, di presentarvi prima di fare la domanda. Iniziamo pure con le domande per Alessandro e partiamo con Colella, Juventus TV. Ciao Ale, Andrea Colella, Juventus TV. Io ti chiedo, dopo queste due sconfitte in campionato, come è arrivata questa finale di andata? Penso che ovviamente è una partita diversa dalle partite di campionato e sicuramente dobbiamo colmare gli errori che abbiamo fatto nelle altre partite, soprattutto l'approccio che nell'ultima partita ci è mancato un po', ma è una partita che si presenta da sola e penso che non mancherà. Sono convinto e faremo una grande partita. Ciao Alessandro, Simone di Noi, Tutto Mercato Web. Tu sei tra i giocatori con più minuti in questa stagione, ma già anche la scorsa, insomma ne hai raccolti tanto. Senti di avere questo peso, questa importanza, adesso che vi andate a giocare una finale all'interno della squadra, sia dal punto di vista tecnico, che poi come leadership, essendo tu tra quelli più utilizzati. Grazie. No, a peso direi di no, noi ci alleniamo sempre tutti al massimo, ovviamente diamo sempre il massimo per poter sfruttare poi l'occasione la domenica e poi ovviamente il mister fa le decisioni e chiunque va in campo penso che dia il 100%, per il resto ovviamente siamo contenti di giocare e domani lo faremo e chiunque giocherà darà il mille per mille. Ciao Ale, buon poveriggio. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Senti, ti chiedo, considerato che tu la Serie C l'avevi già fatto con un altro club, com'è cambiato il tuo percorso personale grazie al passaggio in seconda squadra? Grazie. Sicuramente passi da essere magari un po' il più giovane a Grosseto, quindi stai un po' nelle tue, hai meno responsabilità, invece qui è ora anno dopo anno, già il secondo anno, quindi assumi anche un po' più di responsabilità e anche un po' più di esperienza, quindi cerchi sia di trascinare che dare un po' il buon esempio anche ai ragazzi un po' più giovani. però il gruppo è ottimo e siamo tutti, soprattutto l'ossatura e anche dell'anno scorso, siamo un gruppo davvero unito e i risultati poi si vedono, ecco. Ciao Alessandro, Camillo di Michelis, tutto giuro.com. Volevo chiederti, domani giocherete allo stadio? Voi siete una squadra molto tecnica, quanto vi può aiutare uno stadio di questo livello rispetto comunque al Mokagata che è di livello un po' inferiore? Il campo? Certo, certo. No, sicuramente ci darà una grande spinta allo stadio, il pubblico, anche la concentrazione, è una vetrina importantissima. Sì, noi cercheremo come sempre di imporre il nostro gioco, a volte ci riusciremo, a volte no, dovremmo essere bravi a capire i momenti della partita. Però noi ovviamente faremo quello che abbiamo sempre fatto, cercando di fare la miglior partita possibile. Ciao Alessandro, Marco Baridò, Juventus News24. Ti chiedo, hai rivelato un po' di volte di essere tifoso juventino, ti chiedo se ha un sapore speciale questa finale per te. Grazie. Sì, assolutamente, penso che giocare una finale con questi colori che ho sempre tifato sia un'emozione unica, è anche una grande responsabilità, è un'occasione che non tutti riescono ad avere e per questo sono sicuro che domani sarà un'esperienza bellissima, indimenticabile e speriamo che vada benissimo. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Arrivare a questa età a vivere una finale nella Next Gen è un progetto importante per la Juventus, per il calcio in generale. Ti chiedo in cosa è servito e in cosa aiuta l'esperienza dell'allenatore e la cosa che vi ha consigliato di evitare di non pensare o di pensare meno o di più per intanto ottenere un risultato positivo. Grazie. Noi bisogna essere solo contenti di giocare una partita del genere, appunto con la maia della Juve, soprattutto una finale a questa età per noi è una cosa che ci rimarrà anche a livello di esperienza e quindi bisogna solo rimanere tranquilli e giocare la nostra partita serena e pensare che lo stadio sia solo una spinta per noi e non una pressione. Ci sono altre domande per Alessandro? Ok, passiamo allora alle domande per Mr. Brambil e partiamo sempre da Colella, Juventus TV. Buon pomeriggio mister, io le chiedo questo dato. 13 giocatori sono nati a segno in Coppa Italia, in queste partite che avete disputato. Ecco, quanto sarà importante, quanto è importante questo dato anche in vista di questa doppia sfida con il Vicenza? Allora sì, abbiamo avuto tanti marcatori, è una cosa positiva, abbiamo sempre fatto la Coppa Italia, insomma anche i primi turni l'abbiamo sempre fatti in maniera seria perché ci credevamo, perché volevamo vincere, volevamo arrivare in finale e questo l'abbiamo ottenuto. Sicuramente avere la possibilità di fare gol con tanti giocatori è sicuramente una cosa positiva, una cosa che dobbiamo sfruttare, sia in campionato che adesso in questa finale qua. Buon pomeriggio, Romea Gresti, gol.com. Mister, le chiedo, quanto è difficile preparare una finale, seppur andate ritorno, con il Vicenza? Una squadra quasi lunatica che alterna periodi dove va mille, altri meno come ultimamente? Allora, intanto una finale penso che si prepari da sola, c'è poco da dire ai ragazzi, perché sicuramente l'approccio, l'atteggiamento e la voglia sarà massimale. Il fatto di giocarla contro il Vicenza siamo consapevoli che è una partita per noi tosta, perché è una squadra forte, una squadra esperta, una squadra costruita per vincere il campionato. Però nella doppia partita siamo anche consapevoli della nostra forza, sappiamo che possiamo giocare alla pari come abbiamo fatto in campionato, poi dopo tanto dipenderà dagli episodi e dai dettagli, come sempre è stato in questo campionato qua. Buongiorno mister, Timoti Ormezzano, Corriere Torino. Volevo chiedere se le ultime due sconfitte, soprattutto l'ultima di Trieste, hanno fatto suonare un po' un campanello d'allarme e poi chi parte favorito, leggermente favorito, tra Juve e Vicenza. Grazie. Sì, è vero che arriviamo da due sconfitte, ma arriviamo anche dalla vittoria col Foggia che ha portato grande entusiasmo, grande autostima nel gruppo. Quindi noi stiamo parlando di Coppa Italia, la nostra testa è ancora quella partita che abbiamo ribaltato e dobbiamo avere quella consapevolezza di potercela giocare con tutti. favoriti, secondo me, in finale non ce ne sono. Sicuramente, ripeto, il Vicenza è una squadra forte, è una squadra di un certo tipo, però penso che in finale sia 50-50. Daniel Galosso, Tutto Sport. Le chiedo quanto è stato gratificante, da una parte, vedere giocare ieri sera il derby a Barrenecea e dall'altra, mettendola un po' in battuta, se ha pensato, cavolo, però non poteva succedere in un'altra settimana? Quando un ragazzo che parte con noi, un ragazzo che parte qua dalla primavera e fa il suo percorso nella Juve e riesce ad arrivare in prima squadra è sempre una soddisfazione, è sempre una vittoria per tutto l'ambiente. perché comunque, al di là che sia nella settimana della Coppa Italia, quindi dobbiamo valutare come sta dopo che ha giocato ieri, è sicuramente una vittoria di tutti, è una soddisfazione da parte di tutti, se l'è meritata, se l'è guadagnata, perché credo che il mister Allegri non regali partite di questo tipo se uno non è pronto. Quindi merito a lui e merito a tutto l'ambiente che l'ha accompagnato in questi anni. Un poveriggio, mister Giovanni Albenese, Gazzetta dello Sport. Abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi anni, anche su Sport Italia, lei finali ne ha fatte tante, anche adesso nella risposta con Baranesea parla dell'ambiente, parla del ragazzo, non parla mai di se stesso, resta sempre un passo indietro. Io le chiedo, ho considerato che era ospicabile, ma non così scontato, l'ottimo lavoro che ha fatto fino a questo momento, cosa rappresenta per il suo percorso, per la sua carriera questa finale? Grazie. Allora, innanzitutto una finale meritata, una finale che i ragazzi si sono guadagnati, perché comunque sul campo ce la siamo guadagnata, giocando sempre fuori casa, insomma partite toste, compresa l'ultima in casa col Foggia, dove erano tutti i tifosi del Foggia. Quindi è una cosa non trascurabile questa. Poi per quanto riguarda me, io la sto vivendo tranquillamente come tutti i ragazzi, perché comunque è una partita importante, ma si tratta sempre di una partita di calcio. Da parte nostra abbiamo sempre detto che ci sono obiettivi primari e secondari, l'obiettivo primario è sempre quello che è rivolto ai ragazzi, è la dimostrazione di Enzo, che ieri ha fatto il suo esordio, in una partita che contava, perché è un derby, è una partita che conta, quella è la soddisfazione da parte di tutti. Poi chiaramente per noi sono importanti anche i risultati, perché comunque non vengono mai in secondo piano, soprattutto quando si tratta di ragazzi di questa età qua. Quindi per noi diventa importante fare bene e metterci il massimo per portare a casa questa competizione, a cui abbiamo sempre tenuto fin dall'inizio. Buongiorno mister, Camillo di Michelistutto.ioe.com. Volevo chiedere proprio per questo. Come ha visto i ragazzi, se ne ho spiegato io, ci sono gli occhi giusti, quelli per vincere una finale d'andata? Sì, ma i ragazzi sono pronti, il gruppo al completo è pronto per affrontare questa partita qua. Ripeto, è una partita dove noi abbiamo cercato di trasmettere solo tranquillità, perché comunque la carica emotiva di giocarsi una finale allo stadio è già alta, quindi da parte nostra serve solo cercare di tranquillizzarli. Poi dopo in campo abbiamo dimostrato, come ho detto prima, di potercela giocare anche contro squadre molto più attrezzate di noi dal punto di vista dell'esperienza, anche della qualità dei giocatori, se parliamo della categoria. Quindi sappiamo che abbiamo di fronte una squadra forte, ma abbiamo tutta la fiducia e la consapevolezza di poter far bene. Buongiorno, mister Marco Beridon, Juventus24.com. Le chiedo invece del gruppo, a proposito degli infortunati, se recupera qualcuno rispetto all'ultima partita con la Tristina. Grazie. No, no, gli infortunati... Beh, ci sarà Muaremovic che viene in panchina, che è recuperato, diciamo, dal lungo infortunio, che si allena fatto gli ultimi quattro giorni in gruppo, quindi lui è recuperato, poi gli altri invece non recuperano. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Pochi mesi fa iniziava questa tua nuova avventura. Ti aspettavi la possibilità di giocarti una finale, non dico così in fretta, ma a questo punto, e quanto è cresciuta, quanto è maturata, quanto è contribuito a far crescere la maturazione di questa squadra? E ti chiedo anche il sogno nel cassetto che hai. Grazie. Allora, se parliamo di quando sono arrivato, l'ultimo dei miei pensieri era rivolta alla finale di Coppa Italia, nel senso che quando sono arrivato qua, quello che mi è stato chiesto è stato quello di far crescere, di far migliorare tutti i ragazzi dal punto di vista individuale, poi metterli insieme dal punto di vista collettivo per formare una squadra, è un gruppo vero. E da questo punto di vista qua penso che passi in avanti dall'inizio dell'anno ad oggi ne abbiamo fatti tanti. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Quindi l'obiettivo di finale, l'obiettivo di risultati, era veramente l'ultimo dei miei pensieri, quello su cui mi sono concentrato io, è di creare un clima giusto, un clima sano, di competizione, un clima di serenità all'interno del mio staff, da poi trasferire alla squadra. E quella era la prima cosa su cui abbiamo lavorato. Poi strada facendo, chiaramente, passando i vari turni di Coppa Italia, ci abbiamo sempre creduto, fino a ritorno col Foggia, dove abbiamo ribaltato il risultato dell'andata, e quindi ora ci crediamo. Siamo qua per questo. Fra poco faccio 50 anni, sogni nel cassetto non ne ho tanti. Il mio obiettivo è di lavorare giorno per giorno, di mettermi a disposizione dei ragazzi, perché abbiamo come staff l'esperienza per dargli una mano. Quindi l'obiettivo nostro, il lavoro nostro è questo qua. Poi i sogni, vedremo quello che succederà. Io voglio fare una domanda che è stata un po' già fatta dal mio collega. Allora provo a cambiare. Chiedo se in qualche modo può essere un po' dispiaciuto che qualcuno abbia già compiuto l'impresa di vincere una Coppa Italia di Serie C qui alla Juve. Quindi la grande impresa fa pari con Pecchia. se per caso c'è stato un messaggio, un augurio, un confronto tra lei e Pecchia. Grazie. No, no, bene. Ripeto, noi ce la siamo guadagnata, ce la siamo come probabilmente tre anni fa se l'era guadagnata quel gruppo. Hanno avuto la bravura di vincerla. Noi faremo di tutto per provare a vincerla. Sapendo che ci saranno difficoltà, ma sapendo che abbiamo anche acquisito sicurezze e l'esperienza per, ripeto, per avere possibilità di giocarcela senza problemi. Marco Amato e il bianconero. Buonasera, mister. Le volevo chiedere se ha già individuato chi andrà a sostituire Uisen come braccietto di sinistra e se effettivamente ci dobbiamo aspettare ancora la difesa 3. Grazie. Ma non ho ancora deciso, nel senso che abbiamo ancora domani la rifinitura. Abbiamo varie opzioni. Penso che i ragazzi siano tutti pronti perché comunque hanno fatto questa settimana, questi tre giorni di allenamento bene, con la mentalità giusta, con l'intensità giusta. Quindi mi riservo fino a domani mattina la scelta definitiva. Abbiamo varie opzioni che dobbiamo valutare. Ci sono altre domande? Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Buonasera.